la soddisfazione sul mio volto il volto coperto dal microfono che tanto odiate perché finalmente oggi vi parlerò di un capolavoro ecco il microfono che tanto odiate odio anche io quando fischia però ho preso appositamente questo e non quest'altro perché sennò ogni volta mi dite tutta la faccia coperta ma che vi frega della mia bellissima faccia parleremo di fabbricante di lacrime un film Netflix allora ragazzi io penso che siamo veramente arrivati ad un punto di orgoglio per la nostra nazione ieri ho visto questa opera sul poc'anzi citato Netflix e mi sono permesso di fare un paio di storie che sono state viste da circa 35.000 persone circa l'una e nella seconda storia ho scritto vado a memoria una cosa del tipo un film sublime un'opera equiparabile ad un prodotto veramente di un artista eccezionale il David Lynch italiano e sono contento di poter avere un prodotto del genere nostrano considerate che una parte abbastanza ampia di queste 35.000 persone mi hanno scritto a titolo del film sono curioso ma davvero allora vado subito a recuperarlo quindi per evitare denunce non lo so per incitazione al suicidio una roba del genere ho dovuto rispondere a tutti quindi ho perso tante tante ore a rispondervi tra l'altro seguitemi su Instagram Mr. Marra però insomma dovevo per mettere in guardia le persone non voglio perdere troppo tempo per spiegarvi le motivazioni auto evidenti sul perché questo film sia veramente atroce voglio piuttosto dirvi quanto sia utente un'opera del genere perché perché veramente trovo negli ultimi anni e per ultimi intendo 10 15 forse anche 20 un'estrema difficoltà nel selezionare dei prodotti mainstream quindi con un discreto budget con una buona distribuzione questo comunque è stato molto spinto su Netflix e pari se stia andando anche bene ma anche perché sulle piattaforme ci sono logiche diverse rispetto a quelle del cinema ma no ovviamente le solite regole di imposizione algoritmica te lo schiaffano là primo in Italia primo qui primo là e tu dici se è primo andiamo sul carro dei vincitori funziona così tra l'altro è molto semplice in molte altre situazioni ce le rendiamo conto sia in negativo che in positivo questo prodotto qui è una merda allora lo attaccherò beh però il pubblico adesso sta dicendo che questo prodotto in realtà non è così male forse anche per me non è così male e insomma e via discorrendo però in questo caso è abbastanza difficile farsi un'opinione diversa dal punto di vista qualitativo cioè diversa dal è orrendo però però in realtà è abbastanza facile vederlo proprio per questo motivo quindi prodotti che vengono spinti non si sa per quale motivazione da algoritmi che ci governano ma sono discorsi che abbiamo fatto in tante altre occasioni non ci dilungheremo voglio dirvi che però non è così facile trovare prodotti mainstream che siano davvero orrendi orridi come direbbe il conoscitore sconcertarti insomma devastanti brutti brutti nel vero senso della parola de facto quindi quindi io ho amato questo film ragazzi veramente non mi sono annoiato un secondo un intrattenimento impagabile sapete io ho visto tanti film brutti nella mia vita tanti tanti film belli tantissimi film bellissimi e tantissimi film bruttissimi ma pochi film così brutti da divenire intrattenenti e anche divenire fonte di un'esperienza diversa da spettatore e questa è stata un'esperienza diversa cioè un voice over incessante neppure fosse un noir dei tempi che furono con una voce ovviamente insopportabile edizione insopportabile di tutti i protagonisti ma qui voglio dire superfluo anche a specificarlo molti non sono neanche attori una roba pazzesca cantanti o presunti tali tiktoker c'è di tutto proprio però la bellezza sta proprio qui cioè voice over che serve a sopperire l'assenza di scrittura e imboccare uno spettatore tra l'altro senza neppure una motivazione apparente nel senso che per compensare assenza di scrittura per legarsi a questa figura del fabbricante di lacrime per spiegare al lettore che lui è così perché che lei è così per come il rapporto che hanno c'è bisogno non solo di farlo dire costantemente ai personaggi ah ma guarda che io sono guarda che io faccio guarda che noi siamo no? ma serve anche il voice over cioè quindi ci sono soltanto elementi all'interno di questo film che servono per dire allo spettatore guarda noi volevamo dire questo però non riusciamo a dirtelo con le immagini quello che dovrebbe essere il cinema quello che Leone spiegò a Marty Scorsese indirettamente spiegò attraverso i suoi film l'immagine che diviene sostanza no? cioè noi abbiamo bisogno di dirlo tramite questa dizione orrenda tramite questo doppiaggio orrendo in entrambi i piani quindi sia il piano voice over sia quello interno alla narrazione quindi i protagonisti che tra di loro si dicono queste cose quindi è meraviglioso perché è una sorta di discussione in cui si rompe sempre la quarta parete anche quando semplicemente sono dialoghi tra personaggi cioè sta parlando a noi questo cazzo di film per tutto il tempo cioè spettatore ti prego io so che è difficile me ne rendo conto però questo è il film stiamo andando in questa direzione lui è il fabbricante perché è questo però vuole passare per buono perché lei in realtà non è però c'è questo e già questo è meraviglioso poi vabbè ripeto le recitazioni sono pazzesche pazzesche il biondo il protagonista di questo film Moro vabbè evitiamolo i battute semplici certo un nickname abbastanza curioso nickname vabbè nome d'arte e è pazzesco cioè a un certo punto fa delle facce veramente degne di non lo so Michael Jackson in bed infatti a un certo punto non lo so mi aspetta anche il taglio dei capelli è quello molto bianco cadaverico in volto quindi a un certo punto mi sono detto adesso partirà una coreografia e poi è bellissimo perché non capisci nulla cioè nonostante loro cerchino costantemente di rivolgersi a te anche quando non dovrebbero rivolgersi a te non capisci niente ogni tanto dovevo tornare indietro ma che cazzo sta dietro ok biondo però aspetta un attimo prova a risentirti tornare indietro e fa questo sono un lupo cattivo ok aspetta ho capito un pezzo ma tu sono un lupo cattivo tu devi allontanarti da me ah ok figo e quindi è un'esperienza veramente impagabile ragazzi non so cosa dirvi mi sono veramente divertito tanto non sono ironico cioè è stato stupendo mi sono ritrovato con le lacrime dall'inizio alla fine poi vabbè il momento del processo no che c'è lei che va in bagno ce la devo fare ce la devo fare entra lì racconta una cosa normalissima fornisce una testimonianza e poi scappa rallenti con una camminata tra l'altro scordinatissima tipo non lo so e va dal biondo che nel frattempo sta in coma tra l'altro bellissimo ovviamente faccio spoiler chi se ne fotte tanto spoiler voglio di parlare anche di spoiler è assurdo va in coma perché entrambi si buttano da un ponte e voi direte beh ci sta no cadono nell'acqua apparentemente non c'è nessun danno quindi un po' strano no però in coma perché aveva una malattia pregressa va bene comunque va in coma ovviamente lui si sveglia dal coma e si rivolge a lui dicendo abbiamo vinto abbiamo vinto il processo perché ha visto il film relativo all'insegnante che negli anni ovviamente ha commesso degli abusi nei confronti dei ragazzi e la testimonianza di questa protagonista secondo la visione di questa protagonista avrebbe già garantito una vittoria al processo ma la cosa divertente è che avviene in pochissimi minuti cioè lei fornisce la testimonianza in tribunale tipo sì questa insegnante abusava di noi eccetera è stata violenta finisce di parlare scappa via si rega in ospedale abbiamo vinto abbiamo vinto ma in realtà no cioè magari poi riuscirete a dimostrarlo insieme ad altre testimonianze altre prove ma non è detto non vedo condanna in realtà non è che avviene in tre secondi specie in Italia e poi ovviamente visto che ho citato Italia un altro elemento che secondo me fornisce a questo film una dimensione veramente linciana io non sto scherzando cioè ovviamente tutti parlano italiano no e ripeto con questa dizione meravigliosa ma tutto il contesto non sembra italiano sembrano tipo non lo so di contesti da college con gli armadietti con dei nomi stranieri in un certo punto c'è uno che si chiama Michael Phelps che credo sia il villain se non ricordo male se non ho scambiato i nomi Phelps Michael l'ho aggiunto io che tra l'altro è pazzesco pure lui cioè è proprio il villain tipico che è il bel ragazzetto è tipo il quarterback della situazione che vuole scoparsi la protagonista lei non ci sta e lui invece tenta di stuprarla la stalkerizza ovunque tra l'altro tipo tenta di stuprarla un secondo dopo arriva il biondo cioè il protagonista e e consumano se non sbaglio anche loro un rapporto quindi meraviglioso c'è neanche il tempo di dire guarda sono appena stata stuprata ma si scopriamo cioè una cosa pazzesca lui che poi scappa lo dirò a tutti perché voi dovreste essere fratelli non finisce qui cioè una cosa proprio pazzesca c'è una scena in cui questo villain prova a metterli sotto che è la scena poi del tuffo dal ponte prova a metterli sotto con la macchina ma va tipo a uno all'ora e loro camminano così corrono ma in realtà camminano così tipo a rallentatore e lui adesso vi schiaccerò e questi si buttano quando assolutamente non c'era bisogno non vi avrebbe ucciso ma poi cioè ma sarebbe sarebbe stato assurdo vedere uno splatter del genere investiti così ma la cosa bella però è che io veramente lì immaginavo la qualunque perché essendo su una dimensione così remota no? un patto narrativo completamente assente veramente Rabbids di David Lynch cioè una situazione così fuori dall'ordinario che mi sarei aspettato anche non lo splatter ovviamente per il discorso del target dei ragazzi però magari il villain veramente li investe e questi rivivono come spiriti tornano sulla terra oppure vivono in un paradiso diverso cioè veramente non non è prevedibile alla fine per proprio per questo motivo per quanto è scritto completamente a caso poi ci sono altre molestie strane del tipo c'è una ragazza non perché ci sia un problema nel far vedere le moleste gli stupri all'interno di prodotti ovviamente anzi potrebbe anche aiutare a sensibilizzare il fatto qual è però che appunto tu hai un target anche adolescenziale di ragazzini presumo ragazzine e tratti queste tematiche importanti attraverso un'opera che può anche non lo so ispirare forse qualcuno storia d'amore assolutamente tossica e malsana però senza fare moralismi comunque sono cose strane cioè come reagiscono i protagonisti è veramente strano c'è un personaggio che si innamora di una ragazza da capelli rossi che è un po' la classica con l'occhialetto tutta veloce nell'eloquio la ragazzetta quella più più scheggia all'interno della quella cool con gli occhialetti che è una tiktoker tra l'altro che si chiama niki passarella passarella non ricordo che vi devo dire come si presenta rispetto al resto degli attori come recitazione manco male poi sul finale invece diventa delirante anche lei nel momento in cui c'è una scena all'interno di un party e comincia a fare tipo quella ubriaca non me ne frega un cazzo io voglio essere ubriacato una roba proprio atroce uno scimmiottamento invece nella parte precedente devo dire che ci può anche stare recita decentemente dice discretamente bene le battute ovviamente è un personaggio piattissimo però rispetto agli altri quando è arrivata sullo schermo ho detto ma funziona visivamente funziona ma devo dire che in realtà come forza anche la protagonista avrebbe un volto cinematografico un po' una Jennifer Connelly il problema è la recitazione e soprattutto la scrittura cioè qui secondo me veramente ciao secondo me qui neppure non lo so Marlon Brando avrebbe potuto fare qualcosa no? la cosa divertente è che un personaggio che poi si scopre essere omosessuale una ragazza tenta di baciare questa Nikki Passerella questa ragazza con gli occhiali dai capelli rossi il problema è che tenta di baciarla mentre dorme e arriva la protagonista e fa la ragazza lesbica la guarda o bisex non lo so la guarda e fa tu non hai visto niente e lei fa ok però non si capisce la cosa divertente è che non si capisce se il tu non hai visto niente riferito al fatto che praticamente lei stia molestando una ragazza svenuta o non lo so in uno stato di sonnolenza comunque stava palesemente dormendo in maniera abbastanza profonda nonostante poi si svegli tre secondi dobbiamo andare al ballo vabbè oppure al fatto che non voglia far uscire la sua omosessualità quindi non cioè diciamo ha paura dell'outing no non si è capito oltre al fatto che chiaramente ha paura di dire a questa Nikki che è innamorata di lei però è assurdo perché viene cioè viene veramente trattata con una velocità ed una superficialità una cosa che in realtà cioè non è che puoi baciare no una persona che dorme vabbè poi magari non lo so lascia anche intendere che non sia la prima volta quasi quasi no che abbia fatto anche altro oltre bacio però questo è meraviglioso e appunto ragazzi io che devo dirvi cioè secondo me è un film da vedere assolutamente questo ha il potenziale per diventare un cult purtroppo purtroppo lo stesso problema che vi dicevo prima cioè è veramente difficile trovare un film brutto ma così brutto da diventare cult un altro grande problema nei nostri tempi è difficilmente un film diventa cult per i soliti motivi che ho spiegato mille volte in tante anche chiacchierate con Dario Victor e Frusciante infatti abbiamo una rubrica che si chiama cinema cult però è difficile perché i film non vengono rivisti perché c'è poco passaparola diciamo dopo le prime due settimane di discussione anche questo film se ne sta parlando tanto ma poi giustamente uno direbbe non se ne parlerà più tra una settimana sì però anche i film brutti come quelli bellissimi o discreti avevano un'onda lunga se ne poteva parlare di più se ne discuteva si rivedevano magari venivano comprati i diritti in televisione quindi anche i film orridi diventavano magari dei cult tanto c'ho gatti quelli che fanno un delirio ma si può registrare in santa pace oggi? giustamente qualcuno potrebbe dire beh con undici gatti sei pure cercata però è difficile appunto far diventare cult un film purtroppo però questo secondo me avrebbe il potenziale molto di più che 50 sfumature di grigio perché certo 50 sfumature di grigio ha avuto molto più successo il che non è male per divenire cult e ci sono più capitoli della stessa saga però ragazzi per quanto orrido ha un minimo filo conduttore questo no cioè questo è veramente inland empire cioè tu non lo sai quello che potrebbe succedere i personaggi possiedono il dono dell'ubiquità hanno imparato il teletrasporto sul pianeta dei caio è stupendo cioè veramente a un certo punto si teletrasportano cioè tu non capisci come cazzo sia montato questo film perché non c'è un passaggio temporale tra le cose ah il finale il finale ve lo devo dire a un certo punto ovviamente i due protagonisti si mettono insieme abbiamo sconfitto Gotham stacco loro due con un figlio non mi ricordo neanche forse una bambina sì una figlia che avrà tipo 3, 4, 5 anni e loro sono identici alla scena prima ma anche come taglio di capelli e io dico ma cambiateli un minimo certo non è che in 5 anni in 4 anni in 3 anni uno completamente stravolto no sono giovani per carità però un minimo cambia un po' il trucco di lei il capello di lui no ma anche come taglio non per forza biondo però un minimo l'espressione ma una cazzata metti un occhiale qualcosa per farmi capire veramente il passaggio no da una fase a un'altra no cioè lì per lì infatti sono dovuto tornare indietro perché ho detto aspetta ma che è sta roba cioè c'è un pezzo attaccato ma non ho ben capito poi ho detto oddio no si sono messi insieme e c'è anche il flashback della loro scopata scopata post tentativo di stupro da parte del villain quindi ti fa intendere che quella figlia sia stata concepita in quel momento cioè è assurdo se ci pensate però questa diciamo neanche sciatteria secondo me c'è proprio oh forse è una volontà assoluta e sono dei geni veramente però un'inconsapevolezza in tutto che mi rende veramente stupefatto e sono rimasto stupefatto durante tutta la visione quindi in conclusione ragazzi io voglio dirvi guardatelo tanto ho già spoilerato delle cose ma non sussiste la possibilità di fare spoiler lo capite cioè il vostro stupore rimarrà invariato e ho citato tra l'altro poche cose perché non lo so avrei dovuto prendere appunti ma ho preferito andare a braccio proprio per trasmettervi la forza di questa esperienza quindi che vi devo dire ragazzi grazie mi spiace che non mi abbiano pagato per promuovere questo film perché cioè questa recensione sarebbe stata molto più figa con un bel cachet e comunque ho trovato un modo per far vedere il film qualcuno potrebbe dire beh però è anche un atto criminale questa roba non va spinta tanto ragazzi purtroppo intanto io sono convinto che non valga la solita regola idiota ma non se ne deve parlare questo sia con i personaggi che con i prodotti si deve parlare di tutto e si deve guardare tutto prima di giudicare anche una cosa che a priori fa schifo poi un conto è boicottare delle robe per altri motivi che ne so un'azienda che sfrutta i dipendenti non compri ancora un altro discorso però per quanto insomma riguarda dei prodotti cinematografici di questo tipo cinema insomma dei prodotti video audio video audio visivi dove non sussistono dei reati insomma nella produzione al massimo appunto c'è soltanto un prodotto orrido secondo me invece va assolutamente visto e in questo caso molto di più rispetto a film mediocri brutti trascurabili perché questo secondo me è potenzialmente memorabile se non lo sarà non lo sarà per i motivi che vi ho detto prima cioè il fatto che purtroppo ad oggi divenire cult non avendo storico precedente quindi non sa che film scusate reboot remake o cose di questo tipo è veramente veramente difficile cazzo stavo a di sì quindi avrei trovato comunque il modo per far vedere il film peccato non mi abbiano pagato o forse qualcuno mi ha anche contattato ma ho rifiutato non è la prima volta ovviamente però va bene così insomma l'importante ecco ad esempio in questi casi è mantenere la propria libertà di pensiero e chiaramente non mancare anche di obblighi contrattuali quindi nel momento in cui tu accetti un contratto accetti insomma di fare un lavoro e ti dicono guarda che non puoi parlare male del film allora mi sa che hai sbagliato per solo quindi dai fatemi sapere anche la vostra nei commenti grazie